in atto un grosso attacco nei confronti di una lumaca ecco come vedete le formiche quelle più grandi sono all'attacco mi sa che per la povera lumaca non ci sia più scampo intanto nella Tana hanno portato delle frattaglie non si capisce cosa sono comunque sono tutte in movimento ecco la nostra povera lumaca ecco 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 stanno smembrando non so cosa c'è questa fuga della lumaca vediamo se ce la farà la farà come vedete c'è il disperato con l'attacco della lumaca che piano 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 forse ce la farà che la farà ce la farà credo proprio di sì le formiche hanno altro cibo quindi sicuramente lasciando andare la nostra lumaca che va piano ma in questo caso va sana e lontano ecco vi mostro la guardiana eccola qui questa è proprio potente queste hanno delle belle tenaglie e sono pronte a difendere il loro nido la lumaca come vedete nonostante gli attacchi è riuscita a sopravvivere ecco prende la via di fuga mentre le formiche sono ancora lì che stanno smembrando non so cosa ecco 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 e ancora è attaccata la nostra lumaca è ancora attaccata questo momento forse la lasceranno andare forse ce la fa forse ce la fa ha vinto la lumaca è